nuovo ospedale a muraglia via la gara industria riva cold mostra risultati berloni ceduta all'asta via il progetto ciclo pedonale montecchio montelabatese auto storiche sul san bartolo per la sesta coppa faro il grande volley torna a pesaro con la megabox vallefoglia una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al consueto spazio informativo della sera lo spazio di rossini news il nostro telegiornale delle canale 80 che in questo venerdì 6 ottobre apriamo occupandoci della realizzazione del nuovo ospedale a pesaro da edificare a muraglia dopo l'annuncio della scorsa settimana infatti è arrivata la pubblicazione ufficiale della gara europea per il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo ospedale che potenzierà la capacità di bostiletto a pesaro da 382 a 460 si tratta di un progetto di bene 204 milioni di euro il 30 ottobre scadrà la possibilità di presentare offerte per la gara d'appalto dopodiché ci saranno 120 giorni per il progetto al quale seguiranno tre anni per la progettazione esecutiva e la sua costruzione ed ora due notizie che riguardano altrettante industrie storiche del nostro territorio questa mattina infatti il marchio di cucine berloni è stato ufficialmente ceduto all'asta in tribunale ad aggiudicarselo l'unica offerta presentata da settimane quella della società nord est holding con sede a castelfranco veneto e che controlla le vendite del gruppo arredissima il valore del marchio berloni viene aggiudicato per la cifra di 2 milioni e 100 mila euro e restando appunto in ambito industriale le nostre telecamere si sono accese questa mattina fra gli stabilimenti di rivacold e vitri frigo aziende del gruppo vag che dopo un 2022 da fatturato record si sta scontrando con uno scenario industriale ben più complesso 57 anni di storia industriale il penultimo dei quali segnato dal maggior tasso di crescita il gruppo vag fondato dal ceste vitre che oggi riunisce tre marchi rivacold rav e vitri frigo ha presentato oggi i risultati di un gruppo da 15 siti produttivi su valle foglia gruppo reduce da un 2022 con un fatturato record da 341 milioni di euro e che naviga in un 2023 condizionato dalla complessa congiuntura fra aumento dei prezzi energetici e tensioni internazionali. Siamo passati negli ultimi tre anni da situazioni sicuramente diverse fra di loro iniziando dal 2020 con l'anno del covid quindi un fermo quasi quasi totale per poi prendere una ripresa piuttosto veloce e arrivare appunto al 2022 con l'anno record questa crescita è sicuramente stata una crescita penso anomala per tutti per tutti i settori che ha portato con sé alcune problematiche tipo inflazione aumenti delle costi delle materie prime poi ci sono aggiunte problematiche internazionali che hanno sicuramente complicato l'anno successivo che è quello del 2023. Per al ceste vitri che a giorni compirà 80 anni è un'incessante sfida d'adattamento ai mutamenti del mercato. Abbiamo sempre pensato all'azienda, sempre pensato agli investimenti da fare per poter essere sempre all'avanguardia specialmente negli ultimi dieci anni. Ad oggi siamo 1700 dipendenti quindi l'azienda sicuramente ogni anno ha assunto, si è sviluppata e siamo stati penso anche bravi perché in tutti questi anni di attività non abbiamo mai avuto momenti di crisi, di rallentamenti e questo anche perché proprio abbiamo sempre investito all'interno dell'azienda quindi abbiamo investito sia in immobili costruendo ogni anno anche Cappannoni ad oggi abbiamo 160.000 metri quadrati coperti solo qui a Vallefoglia di stabilimenti. Anche con il supporto del nostro laboratorio che abbiamo qua siamo in grado di realizzare prodotti ecologici, prodotti che rivolgono alla digitalizzazione quindi sono prodotti all'avanguardia e questo ha sicuramente dato parecchio supporto per raggiungere a questi obiettivi record. Penso che la nostra forza è sempre stato il valore che ci ha insegnato nostro padre sul lavoro, sulla serietà, sulla responsabilità e che abbiamo anche poi tramandato spero a tutti i nostri dipendenti. Un gruppo industriale volutamente radicato nel tessuto sociale di Vallefoglia. Nei periodi in cui le aziende hanno delocalizzato ci abbiamo pensato anche noi ma poi perché siamo rimasti qui, perché siamo fortemente legati a questo territorio, ci sono tanti ragazzi che neolaureati, neodiplomati che cerchiamo di far venire a lavorare da noi per insegnargli un mestiere come ha sempre detto mio padre e per dare a loro una possibilità di potersi sviluppare professionalmente. La sfida è ora quella di un futuro complesso in cui navigare a vista. Giorno per giorno, settimana per settimana perché non c'è una programmazione, tutti quelli che hanno qualche impianto da fare, qualche lavoro da fare aspettano l'ultimo momento e perciò non c'è una programmazione. Noi cerchiamo di starli vicini ai clienti, cercare di aiutarli perché è il nostro capitale. Quello che c'è è lavorare, accontentare il cliente che anche loro economicamente soffrono tutti in questo momento, acquistano all'ultimo momento. Acquistando all'ultimo momento i problemi ci sono perché il lavoro è abbastanza complesso. Complessità del momento che costringerà verosimilmente al ricorso di alcune ore di cassa integrazione previste per un massimo di un giorno alla settimana nell'ultimo trimestre dell'anno. Speriamo innanzitutto di non doverla usufruire, quindi sicuramente siamo un'azienda legata al territorio, ci teniamo a fare in modo che tutto vada per il meglio. Abbiamo già purtroppo in questo anno molte società hanno congelato gli investimenti e le hanno spostate per gli anni successivi perché chiaramente costa tanto oggi costruire qualsiasi tipo di stabili, case, supermercati. Nel nostro settore specifico il mondo supermercato ha bloccato un po' tutti gli investimenti, almeno per questo anno, appunto per il costo elevato. E quindi presumiamo che il prossimo anno ci sia un'inerzia sicuramente diversa e che riporterà, mi auguro, a delle normalizzazioni del business. E restiamo nel territorio di Vallefoglia dove il comune, assieme a quello di Montelabate e alla provincia di Pesaro Urbino, ha presentato oggi il nuovo progetto di una unione ciclopedonale. Dobbiamo tener conto delle nuove esigenze che si stanno presentando nei nostri territori. Naturalmente è assurdo pensare a una pista ciclabile nei paesi di alta collina, però nelle zone così come Montecchio io credo che sia il collegamento ideale non solo per fare attività fisica ma anche per andare nei posti di lavoro dove è possibile risparmiando chilometri di auto che viaggiano e immettendo meno CO2 nell'aria, per cui è salutare sia per l'ambiente che per la persona che le usa. Abbiamo uno staff in provincia che lavora molto attivamente su queste cose, sono molto attenti, per cui il mio grazie va all'ingegnere Primavera che ha seguito e a tutto lo staff dell'ingegnere Primavera che è veramente in questi casi sensibile a quelle che sono non solo una sicurezza nello spostamento dei pedoni e dei ciclisti ma anche sensibile alle tematiche ambientali. Questo è un progetto che interessa la strada provinciale 123 che collega l'Urbinate con la Monte Labattese. È un progetto che di fatto è di fattibilità tecnico-economica e che è stato commissionato dalla provincia in sinergia con il comune di Vallefoglia e la lunghezza di estensione circa sui due chilometri e mezzo. Abbiamo praticamente una stima dei costi ancora così preliminare, quindi da raffinare intorno a un milione di euro. Ringraziamo la provincia perché, vabbè, la strada è provinciale però ha fatto il grosso del progetto, noi abbiamo messo qualche soldo insomma insieme a Montalabate perché collega la strada 423, se non sbaglio i numeri, con la Montalabatese e collega due comuni, rende più sicura il tratto di strada provinciale già anche asfaltata, quindi noi ringraziamo sempre quando si fanno le opere pubbliche nel nostro comune, nella nostra città, che è una strada molto trafficata dal cimitero degli inglesi al ponte di Montalabate, alla Montalabatese se uno va nelle ore di punta a mezzogiorno o alla sera c'è un traffico enorme, quindi la pista ciclopedonale toglie, diciamo, una parte importante del traffico e rende più sicura anche le persone e quindi crediamo che sia un'opera buona, come dicevo adesso, a cercare le risorse per poterla realizzare e finanziare. È un progetto importante tenuto conto che si tratta di un tratto di strada dove c'è tantissimo traffico e quindi sarebbe opportuno realizzarlo proprio per mettere anche in sicurezza i pedoni ciclisti che transitano su quel tratto di strada. Voglio ringraziare personalmente la tenacia del sindaco senatore Palmiro Cchielli perché comunque lui è veramente un guerriero e non demorde fino a che non porta a casa il risultato. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Famiglie di bambini della scuola primaria di Via Fermi a Pesaro ci segnalano un progressivo problema di infiltrazioni nell'edificio scolastico del quartiere Monte Granaro che negli ultimi giorni ha visto anche cadute di intonaco. Il comune che ci ha intervenuto nella scuola per un grande cantiere di efficientamento energetico riferisce che interverrà in tempi brevi anche su questa problematica. Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale fra Pergola e San Vito per un incidente stradale. Assieme al 118 è stato soccorso un uomo alla guida di un'auto che per le ferite riportate è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Ieri invece ad Urbino taglio del nastro al nuovo eliporto realizzato nell'area del santuario di Castaccolo. A breve l'eliporto sarà collaudato per i voli anche notturni e diventerà fondamentale essendo anche vicino all'ospedale e a servizio di il tutto il territorio. Ci sarà in funzione anche il nuovo impianto di illuminazione pubblica. E questa mattina anche a Pesero sono tornati a riunirsi i ragazzi dei Fridays for Future ovvero 70 persone fra ragazzi delle scuole superiori e anche una classe della scuola elementare Olivieri oltre a rappresentanti delle associazioni Lega Ambiente, CGL, Lupus in Fabola, Archigay e Forum dei Giovani. Tutti uniti per ricordare la problematica climatica ma anche l'alluvione di Cantiano di un anno fa e le responsabilità politiche ad esso correlata. È stata una giornata dedicata all'apprendimento per affrontare in modo efficace e tempestivo le situazioni di emergenza sensibilizzando i ragazzi alla cultura della protezione civile. Questi gli obiettivi dell'edizione 2023 di Scuola Multimediale Locale, progetto promosso dal gruppo comunale di protezione civile di Cartoceto in collaborazione con l'istituto comprensivo Marco Polo. Nella giornata di ieri si è tenuta la prima iniziativa educativa presso il Parco Martiri di Bologna. E passiamo ai temi culturali perché come vi abbiamo anticipato ieri sta per partire il settantasiesimo Festival GAD che a Pesero avrà una sua anteprima lunedì 9 ottobre nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini con Marlene di Storia di un Angelo Azzurro. Uno spettacolo a cura di Laura Corraducci con voce di Frida Neri e il violino di Ketevan Abiatari. Immagini di festa e di aggregazione quelle di ieri al Centro Culturale Sereni di Via Tombesi a Pesero per l'incontro conclusivo di Insieme in Vacanze. Iniziativa del Comune di Pesero svolta in collaborazione con i centri socio-culturali del territorio e le associazioni Anteas, Hauser e i sindacati dei pensionati per promuovere socializzazione e qualità di vita degli anziani. Sono stati 285 gli over 60 che si sono alternati nei soggiorni proposti ad Asiago, Ponte di Legno, Carpegna, Folgaria, Pinzolo, Moena e Vieste. Per il sesto anno consecutivo torna la Coppa Faro, la gara di velocità per auto storiche che si diramerà questo weekend fra i tornanti del San Bartolo. Autostoriche pronte di nuovo a mettersi in marcia sui tornanti della panoramica. Per il sesto anno consecutivo, in questo weekend, il San Bartolo ospita la Coppa Faro con oltre 80 piloti iscritti pronti a sfidarsi nella gara valida come nona e penultima prova del campionato italiano velocità in salita per auto storiche organizzato da AC Sport. Un evento dedicato alla memoria del compianto Luciano Battisti che in un lustro ha saputo conciliare un connubio non scontato fra la vocazione motoristica del territorio e quella naturalistica del circuito di gara. A Pesaro, per il sesto anno consecutivo, si svolgerà questa manifestazione di auto storiche sulla panoramica. È un evento che ha assunto un carattere importante a livello nazionale e anche internazionale. ci sono dei corridori anche dall'estero e quindi è un bel risultato che quando siamo partiti sei anni fa era, diciamo, impensabile. Domani alle due ci saranno due turni di prove e domenica mattina alle otte e trenta ci saranno due turni di gara. La manifestazione è sotto il profilo globale, abbiamo dovuto fare delle cose in più quest'anno. Allora siamo riusciti, grazie anche al comando dei carabinieri forestali nazionale, a far sì di poter donare 100 piante al comune di Pesaro. Verranno posizionate, so che si sono accordati anche con l'ente parco, verranno messi in una palesia dell'ente parco su un percorso per rafforzare appunto la palesia stessa, 100 piante. Abbiamo voluto coinvolgere due associazioni che si occupano di sostenere, diciamo, persone con handicap, la Genia e l'Aias. In che senso? Abbiamo pensato di portare questi ragazzi, queste persone con una visita guidata al paddock in maniera tale che possono salire e toccare con mano le macchine. Poi sabato ci saranno sei letture a disposizione per poter far fare una salita a modo di parata lungo il percorso di gara, quindi per dargli anche una sensazione diversa e nuova. Queste sono le novità di quest'anno. Domenico 8 ottobre ricorre anche la Domenica di Carta, un'iniziativa nazionale del Ministero della Cultura che per il decimo anno l'archivio di Stato di Pesaro traduce in una mostra che andiamo a scoprire. La Domenica di Carta è un appuntamento annuale del Ministero della Cultura in cui archivi e biblioteche sono straordinariamente aperti al pubblico anche nei giorni di festa. Noi, come ormai da dieci anni, lo celebriamo con una iniziativa a Pesaro che riguarda il dialogo tra arte e storia. Per quanto riguarda la storia e quindi documenti di archivio abbiamo deciso di focalizzarci sul rapporto uomo-donna in un momento conflittuale, se vogliamo, della storia umana, appunto quello immediatamente successivo all'unità d'Italia con i molti cambiamenti che si sono verificati a livello nazionale ma anche a livello locale e quindi delle contingenze storiche che hanno determinato un nuovo ruolo femminile e quindi anche una maggiore consapevolezza di sé. Ecco, si chiama uomo e si chiama donna, partiamo dal titolo di questo evento. Abbiamo pensato di prendere in prestito, di mutuare il titolo da un verso di Mariangela Gualtieri e proprio uomo e donna quali sono i protagonisti della storia. e Moreno Vani, con la mostra che sarà in corso appunto dal giorno 8 ottobre, vogliamo testimoniare la particolarità e la forza dell'arte che diviene testimonianza dei personaggi della storia e dei personaggi del presente. Ho cercato di portare questi miei lavori che si agganciano all'arte classica greca, soprattutto sono un amante della classicità e cerco di portarlo nel contemporaneo attraverso questo stile che risulta potente, con questi neri, con questo nero che è il colore secondo me più bello, quindi che accoglie la luce, l'abbraccia. Ci sono tutti questi lavori che sono fatti con della carta che vado a raccogliere in giro nei manifesti pubblicitari dei supporti stradali, ci sono queste stratificazioni come se fossero delle bende su cui ci sono sotto le ferite emotive mie e di tutte le persone, quindi quello che mi ha fatto diventare quello che sono in questo momento serve a ricordarmi e a prendermi cura di me e attraverso queste persone che sono legate alla storia parlo di me. 8 ottobre, ore 18, presso l'archivio di Stato, via della Neviera, nel complesso dell'Agenzia delle Entrate. La mostra poi sarà aperta per tutto il mese negli orari di apertura dell'archivio, aspettiamo i visitatori, gli appassionati d'arte, di storia, ma anche tutti coloro che non pensano che l'archivio di Stato ci possano essere delle sorprese. Ed ora lo sport, vittoria per 3 a 1 ieri per la Vispesero, Chiare Canati ha passato il turno di Coppa Italia grazie alla doppietta di Di Paola e alla rete di Chemayu in un match deciso ai supplementari. Una bella iniezione di fiducia per la Vische domenica alle 20.45 avrà il derby in trasferta con l'Ancona. E come vi abbiamo argomentato ieri sera nella prima puntata stagionale di Insieme a Canestro su Rossini TV, questa domenica ci sarà invece il debutto casalingo per la VL che dopo il colpaccio sfiorato a Brescia ospiterà Venezia che deve fare i conti con qualche infortunio. Appuntamento alla Vitrifico Arena alle 19.30, in Serie B di basket invece trasferta per il Loreto Basket che domenica alle 18 se la vedrà in casa dell'Amatori Pescara. Inizia invece questa domenica il campionato di Serie A della Fiorini Pesaro Rugby che alle 15.30 al Tecno Bowl Rugby Park ospiterà il Petrarca Padova, partite che anche quest'anno saranno riprese in esclusiva da Rossini TV e la prima partita vi la mostreremo in differita mercoledì 11 ottobre alle ore 22. Ma questa domenica inizia anche il campionato di pallavolo della Megabox Vallefoglia che da questo anno giocherà le sue partite casalinghe al Palafiera di Pesaro recentemente ribattezzato Palamegabox, una Megabox che ieri ha presentato squadra e appunto la stagione nella particolare cornice della Caserma del Monte. Domenica 8 ottobre ore 17 nel ribattezzato Palamegabox zona campanara di Pesaro. Queste le coordinate dello start per il debutto del terzo campionato di Serie A1 della Megabox ondulati del Savio Vallefoglia che esordirà in casa contro la Roma Volley Club, casa che per il club di Vallefoglia quest'anno fa rima con Pesaro, nuova sede delle partite casalinghe delle Tigri Biancoverdi dopo due anni trascorsi ad Urbino. Torna dunque la grande pallavolo a Pesaro proprio nell'anno di Capitale della Cultura. Giovedì sera a dare il benvenuto in città alla società del Presidente Angeli è stata una location molto particolare come quella della Caserma del Monte. Ospiti del 28esimo Regimento Pavia che rafforza il suo legame con lo sport del territorio, la squadra si è presentata spaziando da solide conferme come la capitana Tatiana Kosleva a un rinnovamento che parte dalla guida tecnica affidato a coach pistola motivato a continuare la parabola ascendente del volley targato Megabox. Emozioni sono tante perché comunque sono dieci anni che non sono più qui a Pesaro quindi è un ritorno gradito. Poi da marchigiano insomma ho tutte le intenzioni di far bene in casa mia quindi abbiamo un gruppo che penso che potrà sviluppare una buona pallavolo e fare un bel campionato. Dobbiamo avere solo pazienza all'inizio a inserire tutti quanti i vari tasselli anche quelli arrivati da poco. Sicuramente abbiamo voglia di fare una bella stagione, penso che la squadra sia stata allestita nel modo corretto, abbiamo tanta voglia di iniziare questo campionato, c'è stato un lungo pre-season in cui abbiamo costruito i nostri meccanismi, adesso sono arrivate le ultime ragazze della nazionale e quindi non vogliamo l'ora di farvelo vedere. Penso che dal punto di vista tecnico-tattico sia una squadra che ha un buon potenziale d'attacco perché comunque abbiamo degli attaccanti importanti per la categoria e penso che su questo dovremo fare un po' leva per poter avere un buon rendimento. Dal punto di vista caratteriale penso che è una squadra che è un mix di ragazze giovani con voglia di esprimersi ad alto livello e ragazze un po' più esperte, quindi penso che ci siano tutti ingredienti perché ci sia un giusto feeling per poter esprimere la pallavolo di ottimo livello. E con lo sport concludiamo questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto vi ricordiamo però la nostra prima serata che è dedicata a un interessante speciale che abbiamo realizzato all'interno delle carcere di Pesaro, il carcere di Villa Fastigi in occasione di questo evento dedicato al contrasto alla violenza di genere portato avanti dalla cooperativa sociale Labirinto, evento che si intitola Il femminile, il maschile nell'accadibile, la violenza di genere fuori e dentro il carcere. Potrete vedere tutto questa sera alle 21.20. E poi come sempre l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa come sempre in diretta con repliche anche alle 8.20, 12.20, 14.20 e 18.20. Ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi. Grazie.